Lui conosceva questa montagna con le sue tasche, perché allora la montagna era in terra. Nella parte più alta della montagna, andavano di bene, perché non sono asservato una montagna. Dal momento che l'uomo fa questa montagna, hanno parliato di un'ora di bene, non c'era. A questo punto allora erano in punta, entravi moribili. La birinca, lui conosceva bene una parte, gli porta su un pascio che si chiama Aconaia e Vos e prende. Passiamo giù.